Buon mercoledì a tutti, ben trovati nel nostro studio a Studio Mattina per una puntata ricca di ospiti e iniziamo subito con un nostro grandissimo amico, il professor Gianni Lepre, ben trovato, come stai? Benissimo, grazie per l'invito, oggi particolarmente in forma. E grazie per l'ospite che hai portato con te, perché Don Luigi Merola... Dovevamo iniziare con il botto, come fosse un dio. Della Fondazione La Voce e Creatura è un nostro amico, ma soprattutto è una persona molto nota in questa città perché fa tante cose bellissime, importanti, non solo per il territorio, ma per i creaturi, utilizzo questo termine. Ci racconti che cos'è questa fondazione? La fondazione La Voce e Creatura nasce dopo la mia esperienza a Forcella. Nel 2007 sono costretto ad andare via per motivi di sicurezza e vengo nominato dirigente al Ministero della Pubblica Istruzione. Dunque stavo male, mi mancava Napoli, chiedo al vescovo e al loro sindaco di avere una struttura per mettere su una fondazione che si occupi dei bambini, dei minori, dai sei anni in poi. Così è successo che dal 2007 ad oggi sono rappresentante legale di questa fondazione, La Voce e Creatura, che aiuta innanzitutto i ragazzi a contrastare la dispersione scolastica. Noi abbiamo una percentuale altissima a Napoli, i ragazzi non vanno più alla scuola dell'obbligo. Dunque cerchiamo di affiancare gli assistenti sociali, di intervenire insieme con gli insegnanti, di recuperare questi ragazzi dove fanno una scuola tutta particolare, fanno più sport da noi, fanno più laboratori, manuali. In effetti l'autonomia nella scuola italiana doveva servire a questo, che in ogni territorio, ogni preside, ogni corpo docente si doveva organizzare la sua offerta formativa. Invece noi facciamo sempre le solite materie, sempre le stesse cose, la storia dei greci, dei romani. Ma questi ragazzi iperattivi, noi gli dobbiamo dare un'opportunità concreta. Devono imparare a fare qualcosa. Poi gli spieghiamo un po' di storia, un po' di geografia, gli facciamo capire com'è importante l'italiano, che senza una lingua inglese non si fa nessuna parte. Ma le prime ore, a questi ragazzi devi fare scienze motorie. Noi facciamo le prime ore tutta educazione fisica. Cioè loro si devono stancare, dopo ti ascoltano. Invece noi, nella nostra metodologia, nella nostra scuola italiana, la prima ora devi fare italiano, devi fare inglese. Perché è più fresco. È più fresco con la memoria. No, un ragazzi iperattivi, tu ci fai prima le cose dove si deve stancare, poi dopo ti ascoltano. E questo è stato il metodo, si chiama Voci delle Creature, che è nato, che abbiamo presentato anche nelle università, e dove stiamo andando avanti così. Gianni, importantissimo per questi ragazzi è anche avviarli a un lavoro. Ci stiamo lavorando. I dati sono buoni per il ripristino di un valore importante nel mondo del lavoro. A me, ma vedi, mentre Don Luigi parlava, a me veniva un'idea. Come molti sanno, in effetti, personalmente rappresento diverse realtà per quanto riguarda l'artigianato di eccellenza, quindi gli orafi, ceramisti, i sartori in particolare. L'artigianato in varie stelle. Il senato di eccellenza, che è rinomato poi in tutto il mondo, è apprezzato, il Made in Italy è riconosciuto. Quindi, tra le altre cose, noi abbiamo un problema di cambio generazionale, proprio perché i giovani non sono invogliati, anche dalle leggi, devo dire, ad entrare in bottega, perché costano i giovani molto, gli artigiani ci devono impiegare del tempo per insegnare loro il mestiere. Quindi si va depoperando questo patrimonio importante, anche dal punto di vista economico, della nostra città, ma non solo, dell'intera nazione. Allora, mentre Don Luigi parlava, a me veniva in mente, ma perché non cerchiamo Don Luigi di portare questi giovani anche nelle botteghe? Quindi gli facciamo fare, io sto lanciando un'idea, non so se tu sei d'accordo o meno, se questo poi, per i ragazzi che tu rappresenti, hai questa possibilità di farvi entrare in bottega. Mettiamo insieme, anche perché non siete molto distanti, dalla renascia al borgo degli orefici. No, ma non solo al borgo degli orefici, noi a Altaria, a Oromare, nei laboratori sartoriali, quindi tutto questo potrebbe essere possibile, potrebbe appassionare questi giovani, che tra le altre cose noi lo dobbiamo dire, e me lo confermerà Don Luigi, sono sotto certi aspetti a rischio, quindi magari inculchiamo loro la mentalità, lo sta facendo già egregiamente Don Luigi, su questo non c'è dubbio. Nel frattempo scorrono le immagini, la visita del ministro Piantedosi, quindi che comunque lo Stato è vicino a questi ragazzi. La mentalità in questi giovani a lavorare, quindi a imparare un mestiere che dà loro un futuro dignitoso. E a proposito, allora innanzitutto, secondo te è un progetto realizzabile? Vabbè, ma da rispondere a Luigi? Sì, appunto, questo è un progetto realizzabile. Fattibile perché il terzo punto della fondazione è il recupero degli antichi mestieri, specie l'artigianato, sta proprio nello statuto e sul sito della fondazione, lo potete anche vedere e toccare con mano. Avendo poi Gianni, che è un... insomma, nasconde anche la sua età, sembra un giovanotto quando parla, ma così è un sognatore. Uno che qui a Napoli, per vivere a Napoli, deve essere un sognatore, però i sogni si devono realizzare perché li dobbiamo pensare insieme, questi sogni, perché da soli non andiamo a nessun altro. Dunque si può fare. Si può fare. Invece ti volevo chiedere, guarda queste immagini, c'è una clip esclusiva che abbiamo trovato nel nostro archivio, che è molto significativa del tuo territorio, la guardiamo nel video là. Voglio sapere se tu ti ricordi di questa vicenda. Ah, che bello. Questa è proprio dove hai tu la sede. Quando arrivarono i carabinieri e trovarono il leone in fondazione, il famoso Simba, il nome di questo leone, che stava da sette anni lì, libero, ruggiva di giorno e di notte, nessuno interveniva, nessuno chiamava, nessuno. Poi nel 2016 abbiamo aperto il laboratorio Arti Bianche e il giorno dopo è venuto l'ASL, ci è venuto a visitare. C'era il leone, ma l'ASL si è presentato e ci ha chiesto solo di mettere l'abbattitore dei fumi alla canna, che poi ha oltre i 100 metri. La legge regionale che noi abbiamo rispettato è che superato i 100 metri non c'è bisogno dell'abbattitore dei fumi. Noi abbiamo preso altri 4 mila euro, l'abbiamo comprato per stare in pace con tutti, però nel mio centro storico ci sono tante pizzerie, ma nessuno c'ha l'abbattitore, ce l'abbiamo solo noi. La domanda per conquistare. Mi state facendo anche arrabbiare, io non mi devo arrabbiare, perché appena abbiamo iniziato l'anno devo stare sereno. Da questa scena ad oggi quanto è cambiato questo quartiere? Da questa scena ad oggi è cambiato tanto. Innanzitutto noi abbiamo raccolto dal 2007 ad oggi 1.316 ragazzi dalla Stata, 1.306. Di questi 1.316, 1.200 si sono salvati, nel senso che abbiamo i rapporti, alcuni lavorano nella DLM a Nord Italia, abbiamo fatto una cooperativa che adesso è diventata un S.P.A., che si chiama DLM, perché DLM? Perché è l'acronimo di Don Luigi Merola. E dunque ci sono 99 ragazzi che da Napoli lavorano, fanno i macchinisti, i grandi trasportatori, di grande produzione, anche chimiche particolari, dunque guadagnano anche 3.600 euro al mese, come autisti, e dunque abbiamo dato a questi 99 questo lavoro. Poi abbiamo molti pizzaioli e molti cuochi anche nel ristorante e negli alberghi importanti di Napoli. Questi qua non hanno lasciato Napoli, stanno qui a lavorare, che la fondazione fa l'istituto alberghiero, dunque i ragazzi appena escono, noi diamo lavoro, la camorra, e noi dove ci vediamo in giro? La si combatte tanto lavoro? È chiaro. Perché nessuno nasce delinquente, si diventa se questi non hanno opportunità. Chiarissimo. Gianni, abbiamo sentito Don Luigi che ci diceva che tanti ragazzi sono andati fuori. Ma come si trattengono i ragazzi a Napoli? Questo è un problema molto serio che per la verità, devo dire, sto cercando di affrontare proprio in questo periodo, perché a me piange il cuore, tra le altre cose, io sono nato, cresciuto e pasciuto, a Napoli, ancora oggi, chi mi conosce sa, faccio 15 ore al giorno di lavoro, e devo dire è un cruccio che io ho quello di... I nostri giovani sicuramente non vogliono andare fuori a lavorare, quindi dobbiamo fare in modo di farli restare nella nostra città. La nostra città sta crescendo, il turismo sta creando, devo dire, economia, dobbiamo fare in modo che però questi poi non scappino via, quindi dobbiamo usare nei loro confronti. Naturalmente la prima cosa, la cortesia, quando approcciamo il turista, dobbiamo praticamente far trovare loro, e questo è un compito delle istituzioni, ma non solo, praticamente sicurezza, infrastrutture, ovviamente servizi pubblici, quindi tutti quanti noi, cittadini privati e istituzioni, ci dobbiamo, come devo dire, corciare le maniche per far sì che il turista ritorni, perché noi lo stiamo vedendo, la nostra città migliora, l'economia della nostra città sta migliorando sempre più, dobbiamo far sì che questo patrimonio non venga depauperato, e naturalmente tutto questo può creare nuovo lavoro per i nostri giovani. Però ovviamente le istituzioni ci devono mettere dell'oro, noi bisogna che qui al sud ci siano maggiori sgravi contributivi, quindi consentire alle aziende di assumere i giovani pagando meno pochi contributi. Tutto questo naturalmente serve a incentivare il lavoro anche qua. Tra le altre cose devo dire che molti mi dicono spesso, dicono, Gianni, ma tu parli che questi non devono, le aziende non devono pagare i contributi o devono pagare pochi contributi. ma ci sono dei costi, dei fondi che devono ovviamente servire affinché quello che tu dici avvenga. Ebbene, io lo dico spesso e fortunatamente l'ho sentito dire anche nel discorso programmatico del capo del governo della Meloni ha finalmente parlato di sprechi. Tu lo sai, mi conosci, noi ci vediamo ogni mercoledì, io ne parlo spesso. Noi abbiamo una macchina statale che costa mille miliardi all'anno. Di questi mille miliardi è statisticamente provato da indagini serie, non lo dico io, 200 miliardi sono di sprechi. Per cui se noi andassimo ad attingere da tutto questo e aiutiamo i giovani e aiutiamo anche la fondazione di Don Luigi la prima domanda è un sì o no? Le istituzioni lei le sente vicine? Sì o no? Sì o no? Mi sì? Un po' sì un po' no un po' come i carabinieri come la friccia che si accende adesso sì adesso no. Bene, si può migliorare sotto questo? Dobbiamo fare di più. Volevo chiederti noi ci siamo conosciuti nel 2004 un evento tragico che ricordiamo tutti come la ripartita della piccola Annalisa uccisa dalla Camorra a Forcella Napoli è cambiata rispetto a quell'epoca? Napoli certo ha fatto dei passi in avanti nella sicurezza anche nei nostri quartieri sono più belli sono state ristrutturate tante strade importanti della città di Napoli la differenziata è partita non vediamo più l'immondizia per strato voi vedete come siamo diventati anche noi cittadini civili il problema è che non dobbiamo stare mai più dietro alle emergenze questo tempo non deve tornare più e dipende da noi cittadini da tutti noi non bastano solo le istituzioni Luigi ci rivediamo tra un paio di settimane qua con Barbara così facciamo una chiacchierata sui tuoi ragazzi Gianni noi ci rivediamo mercoledì prossimo grazie con voi ci rivediamo tra qualche secondo dopo la pubblicità grazie mille grazie